Cambiando l'allenatore sono anche ad un bivio da questo punto di vista, quindi non ci sono più tanti attenuanti. Tutto ciò che accadrà ora non sarà tanto colpa del nuovo allenatore, ma più responsabilità dei giocatori. Questo non farà altro che invogliare loro a esprimere ancora di più certi valori. Questo credo sia una cosa abbastanza facile da intuire, quindi l'allenatore, tutto quello che si vuole. Poi ci sono 11 giocatori che vanno in campo e che magari cambieranno anche da punto di vista tattico qualcosa, però è il loro spirito che sarà fondamentale e noi questo dobbiamo aspettarcelo al massimo.